Hai fame di nuovo? Mr. Eagles, ma quanto mangi? Così mi mandi in rovina Forse monsieur gradirebbe delle... le cornie per topi? Sono la... la specialità della casa Ok, dirò allo chef che lei gradite Ciao! Wow! Stavo giusto pensando di pensare a te Ehi, Mr. Eagles, ma che ti prende? Non capisco per quale motivo si comporti così, scusalo Figurati, non c'è bisogno che ti scusi, mio caro Che vuoi, Nerissa? Allora, esci con lui? Lui sa che mia madre ha minacciato di chiudermi in casa per sempre e se ci vede ancora insieme Non so con chi essere più arrabbiata Se con mia madre che ci tiene separati o con lui che le dà corda Già, non ci sono più i ragazzi di una volta Cosa c'è? Guardate, Eileen, è lui l'amore assoluto della mia vita Scusa, ma gli hai parlato almeno una volta? Ma come ti viene in mente? Certo che no Però ho scoperto come si chiama Eric Lindor Che bel nome, non è pura musica, sembra uscito da una favola Già, il principe azzurro e le ragazze pom-pom Mi dispiace per te, Eileen, non puoi competere con quelle stangoni Wow, Andrew Orby Ehi, Andrew Che c'è? E vai! La stazione Radio K-Drip è andata in fallimento e ha regalato tutta la strumentazione alla nostra scuola La preside sta cercando volontari che lavorino alla nuova radio studentesca Avete sentito? Questo è pane per i nostri denti, faremo ballare l'intera scuola Scusa, ma ho altri piani per farmi mettere in punizione permanente Ah, questa faccia è fatta per la televisione Ah, io devo dare una mano al ristorante e il riso non frigge da solo Wow, salvata dalla campanella E dai, Will, vedrai che sarà divertente Lo so che in fondo, in fondo vuoi farlo Smamma, pivello Smamma tu, Yuraya E lascia stare Martin Dovrei lasciarlo con te Fila via, bestione, trovati un'opera Ah, su, leviamo le tende Diamo un po' di privacy a questi due pivelli L'ho sempre saputo che tenevi a me Sono Matt, lascia un messaggio Ciao Matt, non ti ho visto a scuola oggi, così spero che tu non stia male O almeno non troppo, perché altrimenti potrei prepararti un buon brodino di pollo In realtà lo fanno al Silver Dragon, ma se vuoi posso passare a prenderne un po' e... Stai parlando troppo Ok E comunque chiamami quando sei libero Fammi uscire Mi piacerebbe Lì dentro non mi sei di grande aiuto Io non ti sarò mai d'aiuto Nerissa, scordatelo Questo lo vedremo Oh, che animaletto antipatico e scontroso In questa luce si riesce quasi a vedere la sua rabbia Perfetto Sarai il primo di cui mi servirò Tieni pure, mio piccolo Ghiro Riprenditi tutta la rabbia che hai mostrato Smettila Lascia Mr. Eagles Eagles non è un nome dignitoso Fammi pensare, in una leggenda c'era una bestia che si nutriva di rabbia Credo si chiamasse Cor Sì, Cor il distruttore Questo sì che è perfetto Ma che cosa gli hai fatto? Io non mi preoccuperei per lui, tesoruccio caro Perché sai, tu sarai il prossimo Dunque Irma, per ora si tratta di un esperimento Ma pensavo proprio a qualcuno con la tua energia e vitalità In effetti mi piacerebbe fossi tu a dirigere la nuova radio della scuola Vuol dire che sarò io il capo? Certo Due e altri quattro volontari Lo sapevo che mi avrebbero seguito Vedrà, la radio sarà una... Bomba Ecco il tuo staff Bess e Courtney Uriah e ovviamente Martin Coraggio, mettiti al lavoro Irma Si accende il microfono Tipico di quelle linguacce delle grampe Peccato, poteva essere una bella radio Ma mi vuoi spiegare che cosa ci fai tu qui? Ma ho pensato che potrei fare il DJ L'hai detto tu di trovarmi un hobby Già, un hobby è Grande E almeno lo chiedi perché sono qui, dolcezza Irma è venuta a scuola presto Come no? E allora io compro i vestiti al mercato Buongiorno Sheffield Ora che la K-drip è colata a picco La K-ship Sheffield Institute Productions Molla gli ormeggi, alza le vele E parte per il suo viaggio inaugurale Corri carina, le bancarelle ti aspettano E la voce che sentite è quella di Irma Ler O almeno lo era Ma che cosa è successo? Ha intenzione di farci chiudere? Non è colpa mia Ok, magari un pochino Tranquilli, è solo l'amplificatore Lei è giustato Oh, Martin, ti voglio bene Oh, zuccherino mio Finalmente hai ammesso cosa senti in fondo al cuore E di fronte a tutti, sì Ragazzi, quella che avete appena sentito era Irma Ler, la nostra impavida direttrice dalla faccia di bronzo Gracchia come una cornacchia E quindi la strumentazione è andata in corto pur di farla tacere Ragazzi, è ora di pranzo Rilassiamoci con un po' di musica Fammi indovinare, è ancora non raggiungibile Non essere appiccicosa Sta zitto Ehi, Matt, sono io Spero che adesso tu stia meglio I miei cavalieri della vendetta sono stati una terribile delusione Ma credo che tu potrai sostituirli degnamente Certo, però ho qualche problemino a sopportare l'autorità e la cattiveria E allora come potrai servirmi? Vai, Cor Si direbbe che tu abbia fallito La lealtà è una dote rara e la apprezzo molto, ma non posso tollerare la disobbedienza Smettila, gli stai facendo male Oh, lo so benissimo E tu mi odi per questo, giusto? Adesso tu sei Shagon Il mio angelo del rancore Mentre la forza di Cor si alimenta di rabbia La tua forza verrà cresciuta dall'odio dei tuoi nemici Sì, mia signora Buongiorno, Sheffield Il malerre è in onda Ed è sempre sulla cresta E al cinquantasettesimo ha fatto canestro L'unico neo è che va a gozzovigliare E lo sanno tutti che chi non gozzoviglia è in compagnia O è un ladro o è una spia Comunque la... Quintessenza A mali estremi, estremi rimedi Comincia la mia vendetta Tu sei ora La caccia Adesso andate a cercare le guardiane E poi? E poi fate buon uso dei vostri poteri Mia madre mi sta rovinando la vita Ti ha sorpresa ancora a parlare con Nigel? E mi ha anche confiscato il cellulare Già, a proposito, è vero Non vorrei chiamare di nuovo Matt? Sì Invece no Eccolo è lui Chi, Matt? No, Eric Oh, quanto è bello Ciao, Eric Ciao, chi sei? Eileen E ora ascoltiamo le ultime notizie direttamente dalla Sheffield C'è uno studente del primo anno, troppo bello Che ha già segnato dei punti con ben due ragazze pompone Indovinate chi è? Eric, ma di che cosa stanno parlando? Stagli alla larga, lui è mio, hai capito? Ehi, sentite, io non sono di nessuno, calmatevi Eileen, guarda e non comportarti mai come quelle due Cavolicendo Dove, dove? Uffa, è ora? Abbiamo esaurito i pettegolezzi Non c'è problema Non ci resta che inventarcele di nuovi Ehi, Martin Ciao Ciao, Irma sulla cresta dell'onda È forte quello che stai facendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti